Un'indagine conoscitiva che non vuole essere fine a se stessa, vuole esattamente produrre una norma, una norma che renda ragione dei grandi danni che subiscono le aziende agricole del nostro paese per colpe di una quantità straordinaria, dannosissima, di animali che rapiscono l'utile d'impresa, che sottraggono agli agricoltori la prospettiva di avere un utile d'impresa. Mi pare una necessità assoluta di intervenire. Ovviamente bisogna intervenire con equilibrio, tutelando l'ambiente, tutelando anche queste specie, ma trovando le ragioni per cui l'azienda agricola possa essere consentita di fare il proprio lavoro.